La bellissima pallavolista Francesca Piccinini, arrivata a 41 anni di età, decide di proseguire la sua carriera straordinaria. Vi ricordo infatti che rinnova per un altro anno con Busto Arsizio, la stagione che condurrà alle prossime Olimpiadi di Tokyo in Giappone, rinviati 18 mesi per colpa della pandemia del coronavirus e che sono diventate il prossimo obiettivo dell'Azura. La notizia era nell'area da un po' di tempo, adesso sta prendendo la forma ufficiale di un rinnovo con la UNET e WORK Busto Arsizio che ha un contratto già pronto con un altro anno di nuovo alla bellissima schiacciatrice italiana, famosa in tutto il mondo, icona del volley, della pallavolo italiana. Insomma, non c'è che dire, la bella Francesca Piccinini è letteralmente eterna, è arrivata a 41 anni di età, si trova ancora in campo, rinnova col Busto e questo ci fa capire che abbiamo davanti una battagliera tenace in gamba straordinaria e unica e soprattutto favorosa. complimenti dunque a lei, il video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate. Tanti auguri Francesca Piccinini al prossimo giorno.